Durante la settimana dal 20 al 25 febbraio 2023, la Polizia Municipale, in collaborazione con gli operatori d'asti, ha effettuato controlli porta a porta sui rifiuti in diverse vie del capoluogo nisseno. In particolare sono state controllate le seguenti vie fra Giarratana, Gorizia, Cardinale Dusmet, Generale Cascino, Serpotta, Guardavascio, Saccarella, Mule, Edmondo de Amicis, Viale Trieste, Via Brancati, Via Romagnoli. Dai risultati ottenuti su un totale di 26 rifiuti controllati, ben 19 non erano conformi alle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. La separazione dei rifiuti è una pratica importante per limitare la crescita delle discariche, recuperare le materie prime attraverso il riciclo, prevenire l'inquinamento atmosferico e del suolo. La Polizia Municipale e gli operatori d'asti continueranno a lavorare per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del corretto smaltimento dei rifiuti e per garantire che le norme vengano rispettate.